Bene, oggi vogliamo esplorare un nuovo esperimento, colleghiamo un hardware device di tipo Ledger Nano e lo gestiamo attraverso Electrum, quindi Wallet Software Electrum, utilizzando il dispositivo hardware per la firma delle transazioni. Quindi siamo sulla rete testnet di bitcoin e attualmente stiamo visualizzando un wallet preesistente sulla rete testnet già configurato. Adesso vogliamo invece collegare un dispositivo hardware che è questo qui, un Ledger che ho già sbloccato per quanto riguarda il PIN. Adesso dobbiamo considerare che sul dispositivo hardware dobbiamo avere già installato la app di bitcoin e averla pronta sotto mano per adesso creare un nuovo wallet tramite il dispositivo. Quindi quello che facciamo è, andiamo in Electrum, facciamo New Wallet, quindi Wallet Testnet 1. Ok, adesso dobbiamo decidere che tipo di wallet creare, quindi standard o due fattori o multisignature eccetera. Noi vogliamo fare un wallet standard. Ora ci viene chiesto come vogliamo gestire la chiave privata, quindi come la vogliamo gestire? Vogliamo creare un nuovo seed, vogliamo usare un seed che abbiamo già eccetera eccetera. Noi vogliamo usare il dispositivo hardware, quindi mettiamo la spunta su Use an Hardware Device. Adesso lui cerca di rilevare il dispositivo, in effetti rileva il mio Ledger Nano S che è collegato, quindi mi dà giustamente questo dispositivo. Lo scelgo perché è quello che vogliamo considerare. Adesso aspettiamo, perfetto. Ha rilevato esattamente il dispositivo e mi propone il tipo di wallet che voglio creare, se voglio fare segregated witness nativo o altro tipo. Per default mi dà il nativo segwit e a noi ci va bene perché questo è ciò che vogliamo provare. E mi propone una path di derivazione e mi va bene quella proposta di default. Quindi vado avanti. Ora lui sta creando il mio wallet. Ok, naturalmente decidiamo di cifrare il wallet. Ok, ecco qua. Ecco, adesso mi fa vedere, ecco, mi ha creato il wallet, quindi come vediamo abbiamo delle indicazioni da considerare. Quindi vediamo che c'è questo pallino verde che corrisponde al fatto che il sistema è correttamente collegato alla rete e questa icona che mi mostra che abbiamo il Ledger correttamente collegato al sistema. Quindi è tutto a posto, il Ledger è collegato, siamo in rete e è a posto. Perché abbiamo queste transazioni qua? Perché semplicemente perché per poter fare la prova avevo già creato il wallet e avevo inserito delle transazioni in entrata sempre su testnet in modo da poter fare questa prova che andiamo a fare. Quindi ricapitoliamo cosa abbiamo fatto. Abbiamo utilizzato Ledger Nano S come dispositivo hardware. Abbiamo usato Electrum come parte software e abbiamo creato un nuovo wallet utilizzando Ledger per gestire la chiave. E tutto è andato bene, abbiamo ottenuto il nostro wallet. Adesso quello che facciamo andiamo a provare una transazione, vediamo di capire cosa c'è di diverso rispetto a una transazione che facessimo senza l'uso di un dispositivo hardware. Quindi dentro coin abbiamo tre coin attualmente. Adesso quello che vogliamo provare a fare è inviare una transazione da questo wallet che è gestito con dispositivo hardware verso un altro wallet. Quindi useremo questo wallet qui come ricevente. Quindi andiamo in receive e identifichiamo la transazione 2019-11-23-14-24 testnet testnet from ledger 0 0 ok prendiamo copiamo l'indirizzo ritorniamo qua adesso inviamo proviamo a spendere questo coin qua quindi lo paghiamo questo qua quindi ancora 2019-11-23-14-25 to testnet 1 ok vogliamo inviare tutto il coin quindi facciamo max e adesso andiamo a esplorare la nostra transazione allora quindi abbiamo un input perfetto abbiamo un input perché stiamo decidendo di spendere un singolo coin quindi da 0.0 a 0.1 abbiamo un output che è pari a 0.01 cioè il valore intero meno le fee ovviamente quindi stiamo spendendo completamente il nostro coin adesso su questo wallet qui noi siamo sul sul wallet gestito tramite ledger quindi adesso proviamo a firmare una transazione quindi adesso abbiamo la preview della transazione facciamo sign quindi sign adesso io ho il wallet aperto sulla app di bitcoin e sto aspettando che avvenga il prompt esatto sul ledger adesso lui sta trasferendo perfetto mi chiede conferma sul ledger sto controllando i parametri della transazione l'indirizzo di destinazione sto posto quindi confermo la transazione adesso il ecco electrum ha ricevuto la transazione firmata quindi cosa è successo in questo momento? è successo che ho preparato una transazione su electrum quindi ho creato la mia transazione stabilendo gli input gli output dopodiché ho chiesto la firma al ledger quindi il dispositivo il sistema software ha inviato la transazione la transazione in attesa di firma al ledger il ledger ha usato la chiave privata per firmare la transazione e ha rispedito indietro la transazione firmata e quindi per questo motivo adesso qua rileviamo lo stato come firmato quindi in questo modo praticamente la transazione è stata firmata fuori dal computer quindi la transazione è stata firmata completamente all'interno del dispositivo senza esporre la chiave privata al rischio di essere sul computer quindi abbiamo usato in questo modo il grande vantaggio dell'usare un dispositivo hardware ora la transazione è firmata mi manca solo da fare broadcast della transazione quindi quello che il wallet doveva fare è stato fatto quindi la transazione è stata firmata devo inviarla faccio il broadcast e mi conferma che la transazione è stata correttamente firmata dall'altra parte dall'altra parte quindi nell'altro adesso questo lo chiudiamo nell'altro wallet cioè quello di ricezione abbiamo in effetti la transazione in arrivo quindi questa è la mia transazione in arrivo vediamo un attimo quindi vediamo che è esattamente la transazione che ci aspettavamo di ricevere del montante corretto e sul nostro indirizzo e attualmente è stato non confermato perché siamo in attesa che venga confermato dai miner andiamo a vedere sull'altro wallet ecco sull'altro wallet abbiamo la nostra transazione in stato anche questo non confermato andiamo a vedere si tratta della transazione appena fatta è tutto correttamente impostato quindi il coin come vedete non fa più parte dei coin a mia disposizione su questo wallet perché appunto l'abbiamo l'abbiamo speso nella high story è comparso la transazione in uscita in stato ancora non confermato quindi in attesa di conferma e l'abbiamo di qua andiamo a vedere di qua sui coin vediamo che la nostra transazione in ingresso è questa qua lo capiamo perché vediamo l'importo giusto vediamo l'indirizzo di ricezione e vediamo che il campo dell'altezza è ancora non settato perché questa transazione ancora non è stata aggiunta a un blocco quindi non ha ancora l'altezza del blocco perché non è ancora stata scritta nella blockchain quindi l'esperimento ha funzionato adesso dobbiamo attendere che la procedura si completi quindi ciò che abbiamo fatto è stato appunto di collegare il dispositivo hardware di eseguire una transazione e di inviare questa transazione quindi è molto importante in questo modo abbiamo ottenuto maggiore sicurezza rispetto ad usare il wallet software da solo se avessimo usato il software wallet da solo la chiave privata sarebbe stata caricata in memoria sul computer e sarebbe stata usata per firmare la transazione in questo caso invece la chiave privata non è mai uscita dal dispositivo hardware e il dispositivo hardware mi ha rinviato indietro la transazione già firmata è ovvio che questa situazione, questa seconda situazione dà un notevole vantaggio di sicurezza perché non abbiamo mai esposto la chiave privata al computer che potenzialmente potrebbe essere infettato o potrebbe avere altri potenziali problemi quindi questo in caso di holding a lungo termine è la cosa giusta da fare grazie a tutti